Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video all try on all in collaborazione con New Chic! Bene, quindi ciao Juan, grazie, come al solito vi ricordo che non ci sono spese di dogana, le cose arrivano sempre in ottimo stato, massimo 10 giorni, 2 settimane, le cose arrivano tutte in tempo. Bene, allora vi faccio vedere prima le cose così, poi ve le faccio vedere indossate e vi volevo dire una cosa, praticamente qua fa freddissimo, infatti si dice, ho le gote rosse perché ho dovuto chiudere la finestra che è arrivato il temporale, è arrivato il temporale all'improvviso, così, senza avversare nulla, è arrivato il temporale. E niente, allora a me fa così la reazione del caldo freddo, non so se anche a voi è la stessa cosa, comunque a me fa così. Poi prima di lasciarvi al video vi volevo lanciare una piccola, piccolina sfida, cioè, ovvero non è proprio una vera e propria sfida, ho preso questo paio di jeans, adesso vi faccio vedere, che mi vanno stretti. Stavo dicendo prima che Davide mi interrompesse, che praticamente ho preso questi jeans, adesso vi faccio vedere, un po' più strettini del solito, a parte che li ho già lavati e tutto, un po' più, cioè, mi stanno proprio stretti, non mi salgo, insomma, anche se stanno all'elastico, non mi salgo, insomma, sono un po' stretti, però sono bellissimi e io, praticamente, così vedrete veramente, questa è la prova, che entro due mesi, questi mi andranno. Quindi calcolate da oggi che è il 10, io entro giugno, il 10, devo indossare questi jeans, se no, sono una cialtrona, ci state? Ditemi, hashtag, facciamo la prova. Bene, ora vi mostro i jeans, allora, ah, vi ricordo che vi lascio tutti i link dei capi fissati dal primo commento in alto, come al solito, questi sono i jeans in questione, sono fatti così, praticamente, hanno questo elastico in vita, carinissimi, ma non è questa la particolarità, allora, questo, il lavaggio è questo, così, qui hanno dei piccoli spacchi, tipo sfilacciati, guardate la bellezza di questi jeans, no, ditemi voi, qua ci sono altre grafiche, come se fossero dei gatti, sono da stirare, qui hanno sulle ginocchia il gattino, no, ditemi se non è troppo kawaii, un amore, adoro, che belli che sono, sono troppo cute, bellissimi, veramente, vabbè, sono da stirare, non ci fate caso, che appunto li ho lavati, li ho ritirati dallo stendino, sono cinque tasche, no, non è vero, davanti le tasche sono finte, solo dietro le tasche sono vere, e sono anche queste qua, tipo, sfilacciato, graffi di gatti, saprei dirlo, finiscono skinny, e appunto io, tra due mesi, devo entrare in questi jeans, accettate la sfida, anzi hashtag, accetto la sfida, così è tutto molto più interessante, e comunque vi lascio il link, sono stupendi, poi, ho preso questo, questo gilet, che è fatto così, con questo pelo, molto, molto caldo, fatto bene anche, aspettate che non ho capito da che parte, è fatto così, molto bello, con questo peluccio, così, profumatissimo, sta di cocco, perché l'ho lavato con la morbidità, il cocco, eccolo qua, me lo provo subito, così vedete, è veramente carinissimo, questo sta, mi sa che c'è, si, ha, ha questa specie di, di gancio, non so per come definirlo, lo sto provando, vi faccio vedere, se trovo l'altro gancio, sarebbe una bella cosa, se lo trovo, allora, devo seguire, eccolo qua, non credo proprio che si allacci così, penso di averlo messo al contrario, mi sa, si, si, non lo so, perché non penso che questo vada allacciato in questo modo, mi sa che l'ho messo al contrario, molto bene, molto, molto bene, lo giriamo, e no problem, questo dovrebbe essere giusto, speriamo, allora, sì, dovrebbe essere giusto, sì, e questo come vedete, lo allaccio senza problemi, faccio vedere anche la seduta, lo allaccio tranquillamente, ecco qui, adesso infilo qua, e così rimane, c'è molto, molto carino, è bello largo, questo qua va bene per completare un outfit, qualcosa, vi faccio vedere, come vedete, praticamente, è bello largo, mi piace molto, aspettate che qua c'è un pelucco, è bello caldo, morbido, mi piace questo piumaggio qua, e questo, ovviamente è finto, e c'è anche in, mi sembra, chiaro, un beige o un grigio, non lo so, io ho preso questo qua nero, che è molto bello, ovviamente è, è svolazzante tutto, si può tenere, anche aperto, volendo, però a me piace così, appunto, o da lasciare così, insomma, molto, molto carino, bene, molto bello, mi piace, lo tengo su perché tiene caldo, poi, 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 sì, allora, ho preso questo, a Ellison, che è carinissimo, è un body, con il cigno, e la corona, guardate che carino, è un vestitino, qua le maniche sono fatte così, a sbuffo, e la misura 90, però gli va bene, sotto, ha, appunto, questo, che si chiude, con i bottoncini, questo con una calza a maglia, sta bene, e poi ha tutto questo tulle, è un vestito, molto, molto carino, veramente, mi è piaciuto tanto, e l'ho preso, molto, molto, puccioso, poi, sempre per Ellison, ho preso questo vestitino qui, e questo vestitino è un amore, ditemi voi, se non è un amore, allora, ha la maglia, che è fatta, con questo, cotone, a costine, è molto bello, qui sono fatti un po' così, ondulate, queste cose, carinissimo, c'è un pelucco davanti, carinissimo, con questi puà, sotto, è tutto fatto, con questo tulle, ovviamente sotto, alla sua, fodera, così, bellissimo, e poi, ha questo, l'accetto, che è in velluto, che si fa, il fiocchettino davanti, questo ve lo faccio vedere, indossato da, da Ellison, praticamente, e gli sta, un amore, ecco, lo so, l'ho fatto velocemente, però, per farvi capire, più o meno, sono ancora tutto, spiegazzato, questo, è da lavare ancora, e, lo devo lavare, carinissimo, è troppo puccioso, questo qua, c'era anche rosa, però, non so perché, stavolta, ho deciso di prenderlo, grigio, perché, boh, secondo me, è molto delicato, fine, se non ci fate caso, questo fiocco, fatto così, molto, alla carlona, si può mettere, sia davanti, che dietro, però, se guardate il link, fa vedere, che questo è lasciato, sul davanti, ovviamente, bisogna fare, un bel fiocchetto, come si deve, e così, tutto risulta, molto più curato, e carino, è veramente bellissimo, pucciosissimo, e nulla, bene, adesso, io vi lascio, la clip, di Ellison, praticamente, perché questo, l'ho fatto, dell'indossato, il jeans, vi ho lanciato, l'hashtag, sfida, e, questo, sì, non lo faccio, l'indossato, gli va bene, l'ho lavato, l'ho provato l'altra volta, e solo che mi sono indicata, di fare la clip, e quindi nulla, e, niente, vi lascio ora, bene, avete visto, che carina, come sta, proprio un amore, super pucciosa, e, niente, io spero, che questo video, vi sia piaciuto, che vi abbia dato spunto, per il vostro shopping, questo è veramente bellissimo, credetemi, lo prenderò, anche chiaro, perché, è veramente, troppo bello, questo qua, è una taglia unica, e, e, veste benissimo, e, si può mettere, anche sopra le giacche, le giacche, tipo quelle, eh, in ecopelle, o i jeans, meglio la giacca in ecopelle, lasciato aperto, oppure chiuso, secondo me, ci sta benissimo, ma anche sopra, per completare un outfit, una cosa un po' elegantina, ma, un po' casual, è veramente carino, lo adoro, mi sta tenendo caldissima, perché qua fa veramente freddo, bene, dopo che ho finito questo mega spiegone, io vi mando, un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre, mi raccomando, se non siete iscritti iscritti, se no vi vengo bene a casa, iscritti anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, al canale Chiara Alessandro ASMR, vedremo, se, tra due mesi, entro in qua i jeans, mi piacevano veramente, tantissimo, e, e li ho presi, perché sono particolari, non li trovi dappertutto, e quindi, li ho presi, e, fra due mesi, per forza di cose, ci devo entrare qua dentro, bene, quindi, questa è la prova del nuovo, diciamo, dai, bene, un bacione, e alla prossima, spero di avervi tenuto compagnia, ciao!